Neanche la pioggia spegne l'entusiasmo qui a Roma, in via del corso, dove tra poco sarà svelato il nuovo store C&M, che vedete ancora qui alle mie spalle, impacchettato con tanto di fiocco rosso. Sono più di mille gli ospiti attesi qui, al 421, di via del corso a Roma, alle mie spalle red carpet. Di solito vado io da C&M, che costa poco, che sono le cose molto carine, che hanno tantissima scelta, cioè tu vai dentro questi negozi e per di solito mi verso diversamente, però devo scegliere delle cose divertenti, vado volentieri, mi piace. L'ultimo capo che ho acquistato da C&M, se non sbaglio, era una collana? Oppure era una roba per mio figlio? Ah, e sai cosa volevo veramente? Ho visto dei lacci per le scarpe con le alette oro accanto da bambine, me le voglio comprare anch'io perché sono meravigliose. E sarà lo storico edificio del 1901, su cui è intervenuto Massimiliano Fuxaz, con tanto di cupola in vetro ad ospitare gli oltre 6.000 metri quadrati dedicati alla moda democratica, ad alto tasso di creatività come nel DNA del colosso svedese. È meraviglioso aprire un negozio come questo. Un flagship store a Roma in una location così è fantastico. È un palazzo antico. Abbiamo fatto un lavoro sorprendente anche negli interni. L'intero edificio è stato ristrutturato dagli architetti Massimiliano e Doriana Fuxaz. Il design degli interni è stato curato anche da un team svedese. Oggi nel mondo abbiamo più di 3.000 negozi distribuiti in 53 paesi. La nostra forza è un rapporto qualità-prezzo incredibile. Sono davvero orgoglioso di essere qui oggi. La nostra forza è un rapporto qualità-prezzo.